ciao è la seconda volta che giro questo video perché la prima volta mi sono reso conto che durava 52 minuti c'è così tanto da dire così tanto e la nostra vita è così breve proverò ad accorciare un po il brodo ok allora là fuori è pieno di musical musical importanti fatti bene recitati bene cantati anche meglio musical che dopo 50 anni ancora riescono ad emozionare chi li guarda e chi li ascolta e io li odio tutti io detesto i musical ormai mi seguite da 15 anni lo saprete ok quindi per me i musical possono andare tutti quanti a fanculo giù in una fossa comune la fossa dei musical in cui il migliore il peggiore il mediocre non contano più sono tutti quanti merda tutti uguali fanno tutti schifo fino alla settimana scorsa la settimana scorsa ho scoperto di dover scavare una nuova fossa la fossa non comune dei musical dove c'è sotto tutto uno strato di merda di topo poi c'è la panna poi merda di pipistrello e poi c'è un unico musical ovvero cenerentola e quella è la fossa del musical più de merda che mi sia capitato di vedere in vita mia tra l'altro questo è così brutto così fastidioso che l'ho visto per intero che di solito il musical lì droppo dopo la metà guardo metà poi non ce la faccio più mi fermo questo l'ho visto per intero perché mi dava proprio il fascino del gatto morto volevo sapere fin dove si spingessero a fare una cagata e mi ha stupito sono andati molto oltre le mie più rose aspettative leggete rose come qualcosa di completamente opposto cenerentola con protagonista camila cabello è una storia che parla di piedi di scarpe e di una persona talmente tanto a rivista che invece di puntare che ne so al figlio del macellaio punta al principe una storia orribile di per sé di per sé inganni su terfugi sucche che diventano carrozzi sorci che diventano cavalli piedi che diventano il pomo della discordia questo è cenerentola quando non ci mettono le mani nel 2021 quando ci mettono le mani nel 2021 diventa questo schifo qui questa è struttura diceva morfeus in matrix mostrando a neo una stanza tutta bianca questa è la struttura di cenerentola vi dico io oggi in una stanza piena di cosine costose e con la tristezza nel cuore la struttura di cenerentola è la seguente i personaggi si dicono brevemente non sia mai che un dialogo duri più di quattro secondi si dicono brevemente una roba poi parte una canzone che ripete in maniera sommaria quello che si sono già detti quindi è tutto ridondante è come se tu fossi scemo e il film ti spiegasse due volte la stessa roba a volte anche tre che bella struttura questo è un musical quindi è pieno di canzoni e voi direte dai almeno saranno belle le canzoni le canzoni sono stupende sapete che io non di solito di solito non mi esprimo sui musical ma stavolta lo devo dire le canzoni sono stupende io non ho mai sentito un musical con così tante canzoni belle una dietro l'altra probabilmente è il musical con la musica più bella che abbia mai sentito in vita mia e non perché ci sono pezzi dei queen di madonna di ed sheeran ma vi pare in un musical in cui la cosa importante sarebbe l'integrazione delle canzoni con la messa in scena classica tu le canzoni le freghi hanno fatto free booting a madonna e ai queen questo è un film che ovviamente non presenta le canzoni originali dei queen con la voce di freddie merckley con la voce di madonna cioè sono sempre gli attori che cantano fanno le cover di queste canzoni ok però c'è anche sta canzone di camilla di camilla cabello qua non so se l'abbia scritta lei credo di no però insomma è firmata da lei sostanzialmente e c'è all'inizio quando lei sta nel suo tugurio nel suo sottoscala e canta questa canzone a un certo punto la matrigna la chiama ora immaginatevi sta canzone popettosa molto moderna un camilla cabello quanto pare ha un'ottima vocalità e quindi vai non è che ti fa una melodia pulita così come è stata scritta dal povero compositore no 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 la stravolge quindi continuamente ci mette dentro sti vocalizzi ste cazzate qua continuamente arriva al finale di sta canzone la matrigna la chiama lei arriva al cospetto della matrigna se non ricordo male c'è pure un vassoio in mano e quando entra nella stanza la canzone sta ancora finendo quindi lei entra io sono esploso sono scoppiato a ridere come cazzo ti viene in mente di chiudere il pezzo con un vocalizzo e di farmi vedere l'attrice che entra e sta sta cantando ma è follia è una bruttezza io avrei capito lasciare la musica anche con la voce ma lei entra normalmente no non niente lei entra e vocalizza e c'è un secondo di imbarazzo alla fine che è palese palpabile è quasi insostenibile ragazzi l'imbarazzo tremendo io ma non l'ho mai vista una cosa così il vocalizzo cioè non è che la canzone fosse contestualizzata in qualche modo cioè camilla cabello entra non è che finisce con ti ho portato la colazione fa cacare ok una merda ma sarebbe stato meglio di questa che entra ma che merda siccome soffro tantissimo a guardare i musical all'inizio quasi non mi sono accorto che la sofferenza e il dolore stava superando la soglia di guardia alla seconda volta me ne sono reso conto alla seconda volta di cosa alla seconda volta del rapper di raccordo perché tra scena e scena c'è questo rapper che rappa ovviamente in città si vede proprio che è sempre la stessa roba girata allo stesso momento no hanno fatto tutte le scene con il rapper la stessa giornata per togliersene dai coglioni c'è questo qui che rappa parte di quello che hai appena visto e parte di quello che vedrai a breve quindi anche qui un grosso impatto narrativo importantissimo il rapper di raccordo tra poco parliamo della trama va bene però io ci tengo a parlare proprio di come è impostato il film perdonatemi ragazzi perdonatemi se lo chiamo film intendo dire vediamo come è impostato posto che secondo me la dissolvenza incrociata in un paese civile dovrebbe essere bandita quando è sotto il secondo come durata in questo film c'è uno degli usi criminosi più criminosi della dissolvenza incrociata che abbia mai visto in vita mia allora come si fa un cambio scena generalmente se te sei proprio artistico se sei proprio un artistone mi fai un raccordo stiloso mi fai magari un raccordo alla francis for coppola nel suo dracula che inquadra la piuma di un pavone stringe no su questo cerchio azzurro che c'è sulla piuma del pavone poi dissolvenza è proprio lì dove c'è il cerchio azzurro arriva l'imbocco di un tunnel perché jonathan arca sta in treno sta andando in transilvania olla hai cambiato scena hai fatto uno spettacolo e te sei francis for coppola ok oppure se hai meno pretese vuoi soltanto raccontare bene una scena te mi stacchi magari sul primo piano basito di un personaggio così stacco netto palazzone parco insomma mi fai un totale di qualcosa un campo lungo addirittura se proprio vuoi fare lo sborone e poi mi vai sugli altri personaggi mi fai capire che è cambiata la scena mi fai capire dove siamo contestualizzi e poi stacchi qui no qui no qui c'è lo stacco dissolvenzato dissolvenza brevissima quindi sembra un errore di montaggio sai quando le cose sono talmente sbagliate come tempo che tu fai cazzo hanno sbagliato qualcosa è un errore di montaggio dissolvenza brevissima da piano americano a piano americano e tu fai eh che cazzo è successo ti rendi conto che è un'altra scena solo perché è diversa la luce perché quel personaggio prima non c'era però questa roba qui grammaticalmente parlando è sbagliata cioè qui non mi puoi dire beh sinergo è tuo gusto tuo gusto un cazzo vai 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 da steven spilberg montagli una scena così sai cosa ti fa steven spilberg scava una fossa comune ci mette la merda di topo panna merda di pepistrello poi ci caga anche lui e poi ti ci butta dentro e c'ha ragione ma parliamo della trama so che sembrerebbe superfluo parlarvi della trama di cenerentola perché tutti voi la conoscete però qui la trama è un po' diversa cenerentola qui non è una semplice innocente arrampicatrice sociale qui cenerentola ha un obiettivo un sogno perché lei disegna abiti fa moda cuce anche quindi è molto brava e vorrebbe aprire un suo negozio questo è il suo sogno solo che nel paese retrogrado e stronzo in cui vive tutti quanti diffidano delle donne che si mettono in affari ma non si può una donna che apre un negozio quando mai si è vista questa roba è un paese all'antica come ci dicono didascalicamente all'inizio del film ce lo dicono proprio la matrigna tenta sempre di mettere avanti le sue figliocce così per farle sposare a qualcuno chiunque sia tenta sempre di sminuire cenerentola però alla fine pure la matrigna è un po' diversa perché viene fuori che le ha tarpato sempre le ali perché lei dalla vita ha avuto sempre delusioni lei era un'ottima pianista ma poi per colpa di un uomo ha dovuto smettere quindi figlia mia non ti illudere alla fine pure la matrigna è buona perché è buona la matrigna ma perché una donna cazzo e tutte le donne in questo film sono geniali gentili meravigliose la regina la madre del principe ma ma è una donna di un'integrità di un'intelligenza il re ma il re è un gretto è soltanto un gretto ignorante il principe non ha spina dorsale non ha un obiettivo che sia uno nella vita cioè questo qua come obiettivo ha non essere principe a tutti mi dicono cosa fare mi sono rotto i coglioni di fare il principe però non è che esce di casa né che se ne va no perché è anche anche un floscio lui no è un uomo ragazzi dovete capire un uomo è una merda poi un giorno ce l'ha l'obiettivo finalmente l'obiettivo è amare questa ragazza come un uomo ama una donna no come un cane ama il padrone perché questo principe scodinzola dietro a camilla cabello per tutto il film lei lo guarda gli fa sì per non mi rompere i coglioni io devo fare i vestiti alla fine lei impietosita lo adotta come si adotta un cucciolo con una zampa sola e se lo porta dietro è così che il film finisce con questo rapporto sospeso tra i due personaggi in cui tu sai che lui è pieno d'amore lei lo tollera a malapena ma ha bisogno di aiuto ad aprire i barattoli ed è l'unico motivo per cui lui diventa il suo uomo alla prima occasione lei lo farà sopprimere dovete sapere che l'amore del principe per la nostra cenerentola nasce perché lei un giorno si mette in braccio alla statua del nonno del principe e fa incazzare il re lui la vede così ribellina e decide di incontrarla non sa chi è quindi si mescola con il volgo che fa si maschera no si mette una cravatta in fronte si veste come un normalissimo cittadino e per questo nessuno lo riconosce in questo paese nella nazione del ritmo se il principe non si veste da principe nessuno riesce a capire che è il principe questa è la nazione dei rinco non del ritmo poi parliamo della frata madrina al ballo cenerentola conosce una donna una regina una donna forte una donna risoluta che ci viene presentata come un personaggio positivo talmente positivo che è lei che offre a cenerentola la via di fuga le dice sei bravissima a fare vestiti voglio che tu diventi la mia stilista personale viaggerai verrai con me cazzo c'è opportunità di carriera è enorme fai vestiti per una regina sei un top sarto capito un top stilista c'è una cosa che mi ha lasciato un po perplesso questa donna viene fatta passare come una donna emancipata non forte e le fanno dire questa roba vostra maestà era l'uomo che ho dissanguato per prendergli la corona chiamami tatiana regina tatiana eh cosa e mentre stai guardando il film tu fai ah mazza oh cazzuta questa poi pensi proviamo al contrario provate a immaginarvi questo re che fa avevo una regina mi tarpava le ali l'ho uccisa e adesso sono soltanto io a regnare mostro che bastardo figlio di puttana questa qui viene fatta passare come un personaggio positivo e accoppa il marito l'idea è sempre quella di mettere nel trailer qualcosa di tremendamente controverso di far uscire ancora prima delle dichiarazioni dei rumors delle cazzate circa dettagli insignificanti perché la gente si deve incazzare si deve indignare si deve mettere a fare rumore in questo caso il rumore è stato fatto dalla fata madrina fata madrina che è un uomo nero vestito come platinette si parla tanto di un film prima della sua uscita ma non si parla della fotografia non si parla della performance degli attori non si parla delle intuizioni registiche non si parla della produzione non si parla degli effetti speciali non si parla della colonna sonora si parla solo di queste puttanate prima che un film esca le major hanno capito che funziona molto più questo che un buon trailer e quindi si monta un trailer a cazzo di cane con immagini random in cui però sia bene evidente che c'è quell'elemento lì che farà discutere tutti un po' come se facendo il live action della sirenetta tu fai vedere questo trailer pieno di immagini marine con questa sirenetta a un certo punto fa un salto fuori dall'acqua in controluce che si staglia sulla luna a un certo punto vedi la minchia e le torna in acqua pensate davvero che qualcuno si metterebbe a discutere sulle bellissime scene subacquee sulla bella musica del trailer sul montaggio raffinato no l'unico oggetto di discussione sarebbe la minchia della sirenetta l'hanno capito e lo fanno lo fanno sempre magari non con la minchia d'accordo ma lo fanno sempre è un esca e funziona in questo caso la fata madrina era un esca che cos'è la fata madrina in questo film è né più nemmeno quello che era nella storia originale quindi questa tizia che esce dal nulla e aiuta cenerentola ad andare al ballo e poi cenerentola non ci va per il principe ci va per spacciare dischi però l'aiuto ad andare al ballo e quindi le fornisce una carrozza ai cavalli un bel vestito tutte queste cose il problema è proprio la fata madrina ma non perché sia un nero non perché sia gay o perché sia vestita come platinet ma perché proprio gli hanno detto senti te devi fare la fata madrina e l'attore immaginò che già si stesse facendo un sacco di problemi ok come la faccio sta cioè aspetta fammi riflettere un attimo cerchiamo di fare una cosa e gli hanno detto no ma guarda tu fai hai presente il gay simpatico delle commedie romantiche è presente quel modello devi farmi quello stereotipo lì sotto cocaina e vai liscio che viene bene e così hanno fatto quindi la fata madrina è questo però non vi mentirò quella che è stata la cosa più discussa di tutte secondo me è la più innocua e a livello proprio di intrattenimento quella è la secondo me sequenza migliore di tutto il film infatti mi aspettavo che tornasse sta fata madrina a un certo punto perché funziona meglio di tutto cioè non so se perché l'attore sia stato molto bravo a a metterci una pezza in quella cosa surreale che hanno voluto fare non ho idea perché era molto caricaturale era veramente una macchietta non so se perché finalmente si vedeva un po di di magia assai però quella è una delle scene più tollerabili attenzione non ho mai detto che è una bella scena però è una delle scene più tollerabili di tutto questo disastro il film finisce con una bordata di amore parzialmente corrisposto la nostra cenerentola riesce nel suo intento di diventare una stilista il nostro principe riesce nel suo intento di diventare un cucciolo di dalmata ed eccoci tutti contenti alla fine del film mo qualche riflessione seria dopo aver scherzato molto questa è frittura ho il cervello fritto perché è stato un video difficile e già la visione del film mi ha dato una discreta botta in testa però volevo dirvi una cosa avvalendomi possibilmente di tutti i miei neuroni è un periodo di rivincite ok personaggi maschili che diventano femminili e flopano tutte le volte al botteghino non so se avete sentito della nuova indiana jones avete sentito bene nuova indiana jones personaggi bianchi che diventano neri personaggi gay che sai che sono gay cinque fotogrammi dopo essere entrati in scena personaggi che in origine erano remissivi che diventano draghi incazzati in nome di una forza che ormai è diventata una bandiera insomma questi qui vogliono recuperare cento anni di cinema in due settimane mettendo tutto in pari il problema è che non credo che la cosa sia fatta nel modo giusto e onestamente non credo che si stia rendendo giustizia a nessuno in termini di integrazione e rappresentanza in molti mi commentate spiegandomi che c'è bisogno di essere rappresentati e va bene io sono d'accordo non sono d'accordo sul come si viene rappresentati cioè io non vorrei mai essere sovrascritto a qualcuno non vorrei essere la versione nera di quel tizio bianco non vorrei mai essere la versione gay di quel tizio etero vorrei essere rappresentato con un'identità mia vorrei che scrivessero storie belle e nuove con gente come me quello è essere rappresentati essere la trentesima reincarnazione di un personaggio che ormai ha pure rotto il cazzo non è il massimo della vita vogliamo davvero rappresentare il mondo così com'è a prescindere da tutto e allora ci servono storie nuove nuovi personaggi scritti bene tutto qui spero che capiate il punto perché non voglia di litigare peace